Buona giornata amici, oggi è venerdì 30 settembre 2022, anche settembre se ne va, se ne va con tutto il suo carico di maltempo, con tutte le notizie che riguardano il caro vita e vedremo oggi un'altra ammazzata nei confronti delle famiglie e delle imprese, molto così evidenziata dai quotidiani questa mattina. Ma lasciamo a parte questi commenti negativi e iniziamo la nostra rassegna stampa a partire dall'Almanacco con il Santo del Giorno. Il Santo è piuttosto famoso anche se il suo nome non viene più ripetuto in questi ultimi tempi. E San Girolamo, uno dei soggetti preferiti degli artisti nei secoli passati. San Girolamo è un Santo d'Almata che visse a cavallo tra il IV e il V secolo. Morì nel 420 a Betlemme dove si era ritirato per fare un'opera importante. Infatti il Papa D'Amaso lo aveva incaricato di tradurre in latino il Vecchio Testamento e di rivedere il Nuovo Testamento. Ne uscì un'opera veramente monumentale ancora oggi usata dalla Chiesa. Lui personalmente osservò un grande rigore morale, visse una vita ascetica, una vita distente, una vita molto molto rigorosa dal punto di vista proprio fisico. fu dichiarato di dottore della Chiesa appunto per i suoi studi e la grande opera che riuscì a scrivere, a tradurre. Veniamo ora alle previsioni del tempo. Sappiamo che il sole è sorto questa mattina alle 7.02 e tramonterà alle 18.54. Una temperatura che si sposta dai 15 ai 22 gradi. Siamo ancora ad una temperatura accettabile su tutte le marche e vediamo che il tempo si propone con una sua instabilità, con alcune aperture al mattino sulle coste, ma nubi e rovesci nel pomeriggio, un po' tra l'entroterra e sulle coste stesse. Ci saranno anche episodi temporaleschi. Sulle coste i venti spireranno con una tensione debole da sud-sud-est, mentre nell'interno con una tensione altrettanto debole da sud-sud-ovest. e le temperature dovrebbero essere in calo, il mare ancora mosso. Ed apriamo le prime pagine del quotidiano. Anzi, facciamo una cosa stamattina. Guardiamo la prima pagina regionale del Corriere Adriatico. Eccola qui. E vediamo che il titolo di apertura si riferisce all'aumento veramente, veramente considerevole delle bollette. Tanto che si usa la parola shock. Bollette shock, ciao pranzo. Ciao pranzo, quello è riferito ai ristoranti. Insomma, si cerca di risparmiare e di eliminare un po' le spese voluttuari. Ma vedremo come reagiranno i ristoratori. A ristorante solo a cena o nei weekend. Ma c'è però chi resiste. Noi in centro saremo aperti, comunque hanno detto alcuni ristoratori. E intanto Marche Multiservizi alle famiglie dice per risparmiare servitevi dell'acqua del rubinetto. È un'acqua buona, è un'acqua salutare. Potete risparmiare almeno l'acqua minerale. E quindi avere qualche soldo in più per far fronte al caro vita. Le altre notizie pubblicate dal Corriere Adriatico sono riassunte qua a centro pagina. Vediamo che i lupi hanno fatto una visita a Mondolfo e sono stati individuati vicini al convento. A Pesaro l'asse 5 Stelle, Partito Democratico, si rafforza con i cento scritti alla Università. A Pesaro studi un'escrizione che ha avuto un grande successo. A Pesaro poi si commenta la mancata elezione di Lucia Annibali che prima era eletta in Parlamento, poi rifacendo i conti ne è stata esclusa. La vita non finisce certo in Parlamento, ha commentato l'ex deputata. E poi, per quanto riguarda un provvedimento della Regione, vediamo che la Giunta regionale storna le risorse e delle prebende la porte all'alluvione. e sono quei contributi che la Regione assegnava un po' ad un'associazione o all'altra. Sì, erano iniziative importanti, ma di fronte a quanto è accaduto, qualche sacrificio bisogna farlo. Ci sono priorità più importanti e necessità più urgenti da soddisfare. Questa è la prima pagina del Corriere Adriatico. Ora, apriamo il giornale e vediamo l'apertura della pagina di Fano. E si parla della variante di Gimarra e si evidenzia il commento che ha rilasciato la soprintendenza al progetto presentato dall'amministrazione comunale. La soprintendenza scrive al Comune riprogettate il tracciato della variante. Non dice no alla variante. E questo lo evidenzia anche l'architetto Giorgio Roberti che fa parte del comitato che ha lottato contro la realizzazione di questi interquartieri nelle colline di Gimarra. Non dice no alla variante. Dice soltanto scegliete un progetto meno impattante per il territorio. Questa è un po' una delusione per quanto riguarda il comitato e molte persone che hanno lottato per distogliere l'amministrazione comunale da questa iniziativa. Insomma, la soprintendenza suggerisce una soluzione che indica un tracciato meno impattante sia rispetto al tratto attualmente percorso nella valle dell'Ansilla sia dove la strada incide a mezza costa sulla collina. Insomma, cercate, ha detto, di fare un tracciato più in sintonia con il territorio. Ed esiste un'altra idea. Lo evidenzia il capogruppo della lista civica noi giovani, Edoardo Carboni. Esiste il modello Zacchilli. Gino Zacchilli lo aveva già esposto su Facebook in passato. Ora Edoardo Carboni lo condivide e lo propone. Si tratta di collegare il futuro casellino Fano Nord alla viabilità ordinaria e Gimarra alla strada interquartieri già esistente. Insomma, collegare Gimarra all'interquartieri in modo che l'interquartieri rimanga come una strada di collegamento di quartieri non diventi una circonvalazione mentre per andare a Pesaro bisogna sfruttare l'idea del casellino di Fenile in modo che non si facciano altre strade molto impattanti, eccetera. La strada che dovrebbe collegare l'interquartieri a Gimarra è una strada, diciamo così, limitata rispetto al progetto che si vuole realizzare. Comunque la questione è ancora al palo e l'amministrazione comunale in uno stato di riflessione. Eventi al pincio, pericoli per i bus la denuncia degli autisti dell'AMI attraverso il loro sindacato necessario trovare un'altra area per il terminal in centro storico. Il problema si è riproposto ancora una volta in occasione di Fano Fiorisce quando tutta l'area di via Corridoni e la via che circonda anzi che delimita il bastione del Nuti è stata occupata dalle bancarelle e il trasporto pubblico e i pullman e beh, anche questo è un problema. Serve dunque un'alternativa al pincio quando l'area è occupata da manifestazioni e di conseguenza risulta inaccessibile ai mezzi del trasporto pubblico. La richiesta proviene da Filt CGL dice il Corriere Adriatico. Infatti, proprio gli autisti dell'azienda AMI denunciano condizioni di potenziale pericolo sia per i viaggiatori sia per il traffico. E ora la Filt CGL chiede un incontro con gli amministratori fanesi per mettere a punto una soluzione al problema. Insomma, il pincio, questa bella area arqueologica non può restare come una stazione delle Corriere come lo è stata in passato. Sappiamo che la stazione delle Corriere è stata trasportata, è stata spostata vicino alla stazione ferroviaria e quello il punto più importante. Ebbene, ci dovrebbe essere soltanto una fermata di autobus. Però c'è il problema dei bus scolastici, dei pullman scolastici che portano i ragazzi, gli alunni, al padalino e anche al gandiglio. E poi si parla del sottopasso di Ponte Sasso. Lo ha evidenziato, ne parla l'assessore all'arredo Barbara Brunori, il quale dice che è stato approvato il progetto esecutivo di questa opera. Un'opera che ora è ammalorata. Il cemento si sta sfaldando, i ferri all'interno si stanno arrugginendo, anche la pavimentazione si sta sfaldando. Insomma, occorre intervenire. In maniera decisa, in maniera funzionale. È un intervento da 330 mila euro. Intervento considerevole che ora potrà realizzarsi. Il progetto ormai è giunto a conclusione per quanto riguarda il suo iter burocratico. Bisogna procedere alla gara d'appalto e quindi all'assegnazione dei lavori. Il sottopasso di Ponte Sasso è importantissimo per una frazione con vocazione turistica come è appunto Ponte Sasso. Fossombrone e Cagli soppressa una delle due ambulanze. Una privazione importante per un servizio basilare per questi due comuni, Fossombrone e Cagli. E c'è ovviamente la protesta del sindaco di Terre Roveleschi, il sindaco Alessandrini. Ebbene, con una lettera della dirigenza del servizio infermieristico dell'Asur, è stato disposto la sospensione dal 15 ottobre dei turni di reperibilità diurna e notturna infrasettimanale e festiva del personale infermieristico per quanto riguarda le prestazioni di soccorso a Terre Roveresche, Caglie e Fossombrone. Insomma, c'è un problema veramente di assistenza sanitaria. Sappiamo quando è importante avere un servizio funzionale di pronto soccorso, là dove non ci sono grandi strutture ospedaliere e sanitarie in grado di fare una pronta assistenza. Quindi il mezzo che porta poi il malato nell'ospedale di riferimento deve essere pronto, prestante, veloce, per riuscire a salvare la situazione. E questo purtroppo si va in senso contrario. Insomma, non si progredisce, ma si va all'indietro. E qui vediamo come a Mondolfo sono stati visti due lupi vicini al convento. una segnalazione, nessun allarme. I lupi appena hanno visto le auto delle persone, hanno visto le persone, si sono dati alla fuga. Hanno avuto più paura loro delle persone e quindi l'evento ha suscitato più curiosità che paura. A Mondolfo, da via allende a viale dell'industria, più curiosità che paura. Vediamo anche la pagina di Senigallia. in Consiglio, la furia del sindaco Olivetti. Quello che abbiamo visto è stato un sistema flop. Noi siamo stati abbandonati, siamo stati lasciati soli. E qui occorre una riflessione sul ruolo dei sindaci, che sono i primi referenti per quanto riguarda la popolazione nell'ambito del sistema delle istituzioni. Sindaci in prima linea, spesso lasciati soli di fronte a problemi più grandi di loro, più grandi delle risorse di un'amministrazione comunale. Non sono scuse, sono dati di fatto, spesso hanno le loro responsabilità, ma in questo caso il sindaco Olivetti ha pienamente ragione. Sono infuriato, ha sbottato il sindaco in Consiglio Comunale. Non voglio allerte difensive, siamo stati abbandonati. La città ha detto, sta rischiando il futuro. Sta rischiando il futuro perché il sistema non funziona. Il fiume nasce largo e finisce stretto. È come una siringa. E qualcuno è andato a costruire case nei posti più impensabili, ma ormai non le posso buttare giù, ha dichiarato. E ovviamente tutto il discorso viene riferito alle istituzioni che stanno sopra di lui, ovvero la Regione e lo Stato. E vediamo anche qui la morte di un altro ragazzo. Non è un bambino, ha 14 anni, ma è sempre un essere in tenera età. Stroncato dalla malattia a 14 anni, addio Diego, portiere coraggioso, aveva iniziato a giocare con il Candia, sognava un futuro nel Cancio, voleva così aspirare, aspirava ad entrare nella squadra giovanile del Milan. Purtroppo il suo futuro si è spento. Il suo sorriso ti faceva innamorare, dice Federica Serfilippi in questo sommario nel titolo. Si è allenato fino a che le forze non gli hanno consentito. Quattro anni fa ha scoperto di essere affetto da una malattia terribile che se l'è portato via a soli 14 anni. Si chiamava Diego Bottegoni, ex tesserato del Candia Calcio e studente del liceo Rinaldini. Daniele muore a 20 anni dopo una caduta dalle scale. Qui un altro caso per Daniele Perna, in questo caso aveva 20 anni, figlio di Graziano, titolare del noto pastificio Perna di Villa Musone. Un altro lutto che ha rattristato la comunità locale. Apriamo il Corriere Adriatico sulla pagina regionale per parlare ancora della pulizia dei fiumi, quello che ha richiesto il sindaco di Senigallia Olivetti. Per la pulizia dei fiumi la regione stanzia 15 milioni di euro e li toglie dal fondo delle mancette o delle marchette, così viene definito questo fondo, dove ci sono risorse per finanziare le iniziative delle associazioni. E' un allegato al bilancio questo fondo, un allegato al bilancio diventato noto per essere articolato in un pulviscolo di contributi, spesso di poche migliaia di euro, ma capillari distribuiti un po' in tutto il territorio. Comunque di fronte ad una emergenza, come quella che stanno vivendo i territori in questo momento, travolti dalle esondazioni, con imprese e famiglie in ginocchio, certe voci risultavano quantomeno inopportune, ecco perché questi soldi sono stati trasferiti per la pulizia dei fiumi. E speriamo che questo provvedimento preventivo possa scongiurare nuovi disastri. Ma il Partito Democratico attacca lo stesso, non c'è nulla per il caro Energia. Bocciato il fondo da 4,2 milioni per 28 mila famiglie. E c'è Bagar in aula. Il Presidente Latini sospende la seduta, l'ultima seduta del Consiglio regionale. Altro che diluvio milenario, tuteliamo il nostro territorio. I geologi delle Marche non condividono l'analisi dell'alluvione eccezionale. sbagliato di stogliere lo sguardo dal tema della cura sistematica. Non è un evento eccezionale. In realtà i fiumi delle Marche sono a regime torrentizio e quindi le piene sono ricorrenti. E quindi non è un caso eccezionale, è un caso unico, ma bisogna intervenire per l'ordinarietà. E per quanto riguarda invece il Covid, vediamo che ora non è più necessario indossare le mascherine sui bus e sui treni. Però restano negli ospedali. Scade oggi la norma che prescrive l'uso del DPI sui mezzi di trasporto pubblico. La proroga di un mese per le strutture sanitarie, ovvero per gli ospedali, nelle Marche però salgono i contagi. E salgono con una percentuale considerevole. Siamo in autunno, la stagione comincia a diventare critica e la percentuale è di un più 73%. Riflettete su questa percentuale. Ancora sul Corriere Adriatico. Vediamo bollette sciocche al ristorante solo a cena o nei weekend. Molti locali hanno già chiuso per le ferie, giocando d'anticipo, ma c'è chi resiste. Noi siamo aperti comunque. Però, insomma, si cerca di risparmiare, quindi l'orario sarà ridotto. Ad una famiglia l'acqua costa poco più di un caffè al giorno se viene attinta dal rubinetto di casa. Insomma, bisogna cambiare un po' le nostre abitudini. E qui vediamo un articolo che evidenzia l'aumento delle iscrizioni appesa allo studi. Gioiscono i 5 Stelle, la Franquellucci, che fa parte dell'esecutivo pesarese. La riapertura della sede universitaria in Viale Trieste è uno dei punti forti dell'asse del collegamento, della collaborazione del PD con i 5 Stelle. E qua vediamo invece il commento di Lucia Annibali che lascia la Camera dei Deputati per un pugno di voti. Prima risultava eletta, poi la doccia fredda. rifatti i conti, lei è fuori dal Parlamento, esclusa da Montecitorio. Eppure aveva avuto un quinquennio di grande attività. Nel corso della legislatura, Lucia Annibali ha lavorato intensamente, aveva presentato tre disegni di legge come prima firmataria, 50 come co-firmataria e di 8 è stata relatrice. Tra le emozioni a sua firma, 35 quelle condivise e nessuna relazionata come per le interpellanze che ha proposto in prima persona due volte e 20 insieme ad altri deputati. Insomma, un grande lavoro che ha fatto Lucia Annibali che ora continua però la sua opera di sensibilizzazione contro ovviamente la violenza sulle donne ma anche di valorizzazione del sesso femminile. Autismo in venti senza centri diurni, pochi posti e famiglie estremate. Le famiglie sono deluse e snervate da un'attesa lunga per più di 4 anni. Che cosa si attende? Si attende l'apertura del nuovo centro diurno residenziale per l'autismo previsto nell'ex asilo tra le vie Vattielli e Alfano nella zona del Campo Scuola dove la Regione con una decisione del tutto imprevedibile ha deciso di collocare anche la centrale operativa territoriale ovvero il COS. Ancora però di questa cosa non c'è ombra. E vediamo anche la pagina di Urbino dove si è dato il sigillo dell'Ateneo della Università d'Urbino alla Guardia di Finanza e abbiamo visto come questa decisione ha suscitato delle polemiche nei quotidiani dei giorni scorsi perché? Perché insomma premiare la Guardia di Finanza per un fatto avvenuto nel 1860 quando il corpo dei finanzieri entrò in città e la liberò dal governo dello Stato Pontificio appare un pochino un po' qualcosa che insomma 1860 poteva essere fatto prima bisogna aspettare più di cent'anni per fare questa cosa insomma e vabbè le polemiche sono polemiche e noi lasciamo ora così il Corriere Adriatico e apriamo il resto del Carlino il resto del Carlino rievoca le polemiche che ci sono ancora su Viale Alighieri dove la questione dei parcheggi comincia non comincia continua a suscitare le proteste dei residenti ma anche delle aziende che lavorano nel circondario parcheggi in Viale Alighieri e l'anarchia la protesta dei residenti dopo il congelamento del piano ipotizzato ad aprile quello che poneva i parcheggi in maniera parallela al senso di marcia delle strade si cerca sempre un'area verde adiacente al luogo che fine faranno in titola appunto l'articolo del Carlino i parcheggi di Viale Dante Alighieri ebbene commercianti operatori economici e residenti dopo la tregua estiva e la sospensione del progetto insorgono e vogliono sapere dalla giunta che cosa accadrà però ancora l'assessore il nuovo assessore alla viabilità non è stato nominato dopo le dimissioni annunciate da parte di Fabiola Tonelli e senza assessore ovviamente decisioni ancora non vengono prese e qua vediamo un episodio particolare deceduto sul tavolo del ristorante ed è appunto morto si tratta di un pensionato fanese che stava pranzando in una trattoria di via Giovanni da Serravalle si tratta di un uomo di 80 anni le cui iniziali sono MP ieri stava consumando un pasto all'aperto sotto il gazebo allestiti dinanti la trattoria da Ugo quando all'improvviso si è stato colto da un malore e purtroppo non c'è stato nulla da fare per rianimarlo farmacie comunali a gonfie vele covid decisivo ebbene anche le farmacie comunali hanno offerto un notevole servizio un notevole sussidio ai malati di covid durante i periodi più burrascosi della pandemia ebbene il bilancio dell'ASET si chiude in questo settore delle farmacie comunali l'ASET gestisce le farmacie comunali con un buon risultato 500 mila euro ebbene mezzo milione di euro nei primi sei mesi del 2022 e già a 400 mila quindi nel 2022 i 500 mila si riferiscono a 2021 e nel 2022 ancora non è finito l'anno e quindi probabilmente ci si assesta sulla stessa cifra o poco più e quindi a gonfie vele le farmacie del comune notte della luna al balì la visione è al top una bella iniziativa questa dell'osservatorio nel museo della scienza al balì perché partecipa ad una iniziativa che è un po' a livello internazionale quella che viene organizzata dall'international observe the moon and night che sarebbe una edizione di un'iniziativa che invita tutti ad osservare la luna e la luna sarà veramente bella in questa nottata da non perdere appunto l'iniziativa che si svolgerà domani sera al museo della scienza al balì di saltare e qui vediamo urbino la cittadinanza onoraria dalla finanza ed è festa il generale Zaffarana al consiglio il riconoscimento ci rende orgogliosi perché suggella l'antico legame con questo territorio insomma una bella iniziativa comunque perché la guardia di finanza è sempre un corpo a difesa della nostra identità della nostra cultura del nostro territorio e questa era l'ultima notizia anzi come sempre dico non voglio tralasciare la notizia di sport perché oggi c'è una notizia particolare si parla del Fano si parla della prossima partita si parla degli allenamenti ma a margine di questo argomento vediamo come nell'ultima partita c'è stato l'omaggio dei club al papà di Federico Santini bronco tifoso scomparso a cui verrà intitolata la curva dei tifosi Elmo Santini è stato commosso si è sentito commosso per questa iniziativa e qui veramente concludiamo la nostra rassegna stampa vi do appuntamento per quello che diranno i giornali domani alle 7 ma per le notizie del giorno alle ore 20.30 occhio alla notizia su Fano Tifu il TG condotto da Simona Zonghetti e questo è veramente tutto vi auguro buona giornata a risentirci a risentirci a risentirci Grazie.